Questo lume, i fratelli dello spazio, voci dall'infinito, attraverso Wanda, Albano, 30 giugno 1998, a cura di Vubbi, civiltà e nu. Perché, creatura, hai acceso questo lume? Sentendo la nostra forza hai avuto un attimo di smarrimento? Sentendo la nostra potenza, la tua mente ha forse pensato che fossimo forse del male? Stai tranquilla, sorella. Noi siamo l'amore che vi manca. Ve lo doniamo con dolcezza e tranquillità, perché siamo incaricati dalla forza cosmica di darvi un aiuto per risalire la china in questo momento decisivo per il vostro andare. Piano piano ti porteremo con noi verso il nostro vero sentire, facendoti comprendere come agiamo e pensiamo. Tu hai accettato il nostro contatto sentendo la dolcezza del nostro modo di esprimerci. Ci senti e sai riconoscerci, ed allora perché ti sei spaventata nel sentire la nostra forza e potenza, che poi è molto limitata rispetto a quella che esiste nel cosmo. Continua.